Salve a tutti e benvenuti con il Main Event di Elimination Chamber. Bravissimo, è giusto, che evening vuol dire giornata, pomeriggio, ciò vuol dire buona giornata, passare il volume, troppo volume dietro di lei, di tendente alla sera. Con il match per il titolo WWE, in palio di John Cena, contro Barone, contro Bray, contro il coglione di Elimitz, Dean Ambrose, è fenomenale! Boom! Ed eccoci qui, foto foto foto, inizieremo subito perchè non ci sono gli ingressi con le canzoni perchè altrimenti costa troppo a azionare i motori e far scendere tutta la struttura no? Ovviamente il numero 2 è il barone, sicuramente. Il numero 2 è il barone con The Miz. Siete anche già vicini? No, no, io e te! No, sto cazzo! Io e te! No! Vasta! Che vuoi fare? Che vuoi fare? Giusti a picciare! Vai, vai! Vieni con me figliolo! Drink it in! A beverati! AVERRIAT! Aioh! Che vuoi fare? Non so! UUGH! Boh! Ma però devo dire arco! Andiamo a ricordare ai ragazzi che siamo? Giusto! Io sono questo che corre, Bray Wyatt e io Baron corre! Potevi menare meno sfiga però Potenza incredibile Questa domenica ci sarà questo incontro Ho fatto ovviamente cose casuali Potevamo fare anche altri incontri Però fino adesso Sto qua perché esce da me Io lo so Dove sono i commentatori Non ci sono, sono spariti Sono spariti, va bene Eh appunto A posto Lo vuole? Lo brama? Tutto suo Giusto? Potevamo fare altri Io riposo Però per adesso ce ne erano Annunciati solo due Non potevamo Non sono capace di entrare All'è uno No però volevo fare le robe tipo Ulle 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 Mega volo astrale Però non c'è stato il Ciup Eh scusa eh Se si vogliono fare le cose giuste Si fanno le cose giuste Si aggrappia ancora di puttana E chi entra? Tocca a lei scegliere Chi entra? Entra John Cena Sto cazzo AJ style Why tu AJ? JJ prendo io da me Non posso picchiarlo quello lì Schifoso Eh ha capito però Tu hai preso il nostro Precio di merda pelato Eh ma che ha preso lui Quanti capelli ha Baron infatti in questo videozocco Non è molto realistico ecco Aio Non abbiamo preso i campioni Perché uno avevamo già fatto l'incontro Quindi non mi sembrava più che giusto E abbiamo preso Due dei quattro Che potrebbero vincere Esatto Per lei Che uno sicuramente vincerà Giusto Bray Wyatt Giustamente No Secondo lei Chi uscirà Come New Champions Ma che sai Secondo me Ingradin Ambrose Perché John Cena Ha pagato Danny e Brian Dato che sono parenti Bastardo Fuffi Fuffi Anzi Dato che era campione Dato che era campione Dovete cominciare per primo Sto schifoso Vieni a casa Vieni a casa John Cena Porca puttana Eliminato subito Io non so le mosse di Bray Wyatt La mosse speciale Bravissimo E io non la so Iniziamo nel cosiddetto Cul de sac Che vuol dire così no Oh no Passato John Cena pesci Vendolo Oh no Tanto l'ultimo Visto perché ha Amicizia Trocata Potevo fargli Subito La mossa speciale Eldin Ambrose Campione intercontinentabile Mossa speciale Sambo Slam Non la fa lui Se la fa però Due Quasi Nuovo campione Bray Wyatt Primo schienamento Ovviamente Giusto? Giusto Giusto Settimo posto Nifoso Un po' Un pieno De scatole Di cadere così No Mentre ricordiamo Anche alla gentile Utenza Che alla Royal Rumble Abbiamo fatto Delle bellissime figure Eh sì sì Giusto E che settimana prossima Soprattutto Bellissima Soprattutto Soprattutto La sua Proprio Eliminato Settimana prossima Ci sarà La seconda parte Del Delle rivincite E poi ci sta Lelino 6 E ricordiamo Che per adesso È la Vai arbitro Tu Conta lì Conti No Arbitro Cretino E deve aspettare Arbitro Uno Dos E va Fanculo Ricordiamo Che siamo Sul 3 a 3 No Sì Nel contesto Bastardo De Mitz Che mi fotte C'è nel senso Mi fotte La mossa Chiamo io Tre vittorie E il bell'uomo Tre vittorie No Con sto cazzo Che ti aiuto Mori Bastardo Chifoso No 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 Il bell'uomo Se ne va Il bell'uomo Perché Oh Futtana Basta E va a fanculo E il bell'uomo Se ne va Stai Schiena De Mitz E gli stai Pesto Pesto Chi Eh io ho preso Col più forte Ero contro Contro il più scarso Ah ok Sei andato Contro più forte Ah ok No Io che ho preso Più forte Oh mamma Ho fatto la mosso Fizzabilissima De Mitz Mi salvi No De Mitz Figlio di buona donna Schienila Oh perché Due contro uno Qua John Cena E ci sarà Un nuovo Campione Ma io ho fatto La mosso finale Oh la la Mamma mia Sto qua un attimo Perché c'è questo Guarda Che mi sta rompendo No no Niente Niente Brava di lembro Sulla piccola Oh che puttana Schifoso Bossa finalissima Eia Schifoso Oh Che miseria Sister un c***o Ancora una volta Seconda volta Che me l'ha fottuta E io per vincere Ragazzi Ah ma Voglio Non abbiamo detto Ragazzi Che stiamo Giocando Con difficoltà Leggendaria Ah puttana È vero Perché ci siamo presi A fare degli incontri Di copie molto particolari E non abbiamo cambiato Ma ti per prendere Le cose più sensazionali Vada Demitz Facci No Demitz è uno spunto E stiamo giocando A livello Le zenda Mi sa perché E anche per quello Che mi hanno Che Demitz Quel finocchio Mi ha rubato Le messe E a me poi Per bastare G7 Mi ha sotto Ma giustamente Anche perché Ovviamente Deve Stile Clasher Stile Clasher ecco e ci può essere un altro eliminato un altro eliminamento 2 3 venghi arbitro venghi 1 2 via 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 fu le grandi fughe sambo slam porca p***o non lo fa 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 addio si è scarso no è che non lo può fare da fuori si picchiano si picchiano allontane sambo porca p***a sambo slam cretino il gestai grandissimo grandissimo gestai cornodo p***a gestai perché è uno stronzo schifoso fai 1 2 cannombol è sì 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 proprio bevole c'è un pangler la nostra finale di road dog jesse james è vero sì però molto diversa è più bella quella lì potevano mettere miseria suplex ah no via anezza 3 no dinembros si alzi no non solo tipo scelgo ah sto fraccico no bravo dinembros join alla family stifoso ehi shin breaker spezza tibia no 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 din si alzi stage clash mamma mia è riuso sambo slam sambo p***a tua madre dinembros p***a le le valla le dinembro no uuuh uuuh potenza herculea uuuh p***a uuuh ma perchè 2 contro 1 che cosa che ho fatto ben male io per oh dinembro ma barca e j style prendi dinembros cretina ti voglio bene tutti te no devo andare su 4 no ok devo andare su 4 a 3 cristo le grande rubate di mosse buom orgio via fuga inferrochi basta basta ma cosa ho fatto ando crittino LS via fura mi lasci tick lascie il testo che hai mai erano la scuše foto questo cazzo sta farà arrivederci come moglie prendi schieni arbitro fatti su doveva 2 fanculo caputana si rompi palle ho sbagliato mossa orco demonio saluta 2 abito lei non l'anzi che necco con lei non si ne travesse molto l'ambra dei due calci non posso acqua oh ed è stai chi era l'altro oh ma cosa cazzo oh oh c'è mezzo del pane oh fuori dalla porta 1% rischi 3 cosa sono queste la faceva all'inizio quando era ancora nello shield la faceva si no picchiatevi un pochino vuoi no Bulldogs no no non è vero venga il vostro finale vostro finale venga di Nembro arrivereci seguo la schiena 2 e 3 Grey Wyatt e di Nembro's ultimi 3 oh AJ va fuori a balle e non lo so perché va fuori di libro è buggato potremmo fare la mossa speciale che capio che capio che capio no ma non mi usciva l'altra volta Bulle no moca volevo far di fuori no miseria torna a casa Sambo Slam oh si it's time vieni qua carantoletto it's time sister Abigail bacino boom schienamento uno due tre non solo questo potrebbe succedere da domani ma questo è il mio Sambo Slam è il mio 4 a 3 4 2 3 nelle prossime settimane ecco infatti a portare a proposito end of this quando c'è stata l'eliminazione qua nelle prossime settimane per il prossimo preview di Rob ci saranno più incontri come come già detto di questo si sapevano soltanto due ma l'altro era un po' difficile da fare quindi non stavamo lì a fare cose che che le play sono tutti per me no incredibile boom ascella slam e c'è il sedimento del barone te potevi fermarlo potevi 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 col cazzo eh si 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 qua un un backbreaker back sconfoso accompagnato da Demitz da Demitz con un calzino e stasera un sommitente da schienare sister Abigail boom replay un po' fegato si però almeno questo con schienamento molto mi stanno dando schiaff almeno che hai dato schiaff finirà così questa domenica allora sarà presto la media contro il suo pupillo in questo plastic media versione di un universo parallelo si sarà Randy Orton contro Bray Wyatt giusto ottima osservazione Watson ente ragazzi chi vincerà per voi per me vince nell'elimination chi vince per te Baron per me vince Bray Wyatt no per me se rincia ancora io porto fortuna io porto io non porto sfiga tanto vince io non so io non so iettatore guarda questa indicattiva ti vengo a prendere strunzo che brutto che è così eh oh ragazzi pure che vi sia piaciuto e ci vediamo settimana prossima con la seconda parte delle nostre rivincite vuole salutare qualche duno a tutti i duni ha ha